ben trovati nel decimo tutorial descrittivo del copy di f16 in falcon bms editato dal sessantanonesimo squadrone analizziamo oggi il pannello elettrico situato nella console di sinistra andiamo in console di sinistra blocchiamo la visuale ci posizioniamo ecco il nostro pannello elec iniziamo col dire che il vero sistema elettrico del f16 è estremamente complicato con la presenza di più bass i bass sono dei canali di comunicazione che permettono a periferiche e componenti di un sistema elettronico di diciamo tra virgolette comunicare tra loro scambiandosi informazioni o dati di sistema attraverso la trasmissione di segnali questi bass possono essere a corrente sia alternata che continua in falcon bms si è semplificato il tutto mantenendo corretto il comportamento in ram start volo e fasi di spegnimento del veivolo ma senza presentare possibili malfunzionamenti la grande differenza tra falcon bms e il vero f16 è che in bms non si fa distinzione tra alimentazione a corrente alternata e corrente continua altra differenza è che bms non modella il percorso fisico dei cablaggi dei bass per esempio il vero f16 ha più bass essenziali e sparsi in posti diversi del velivolo mentre bms ne ha uno solo per ogni bass infine è il vero f16 ha il fly control system cioè l'fl cs composto da quattro rami a b c e d mentre in bms viene gestito come se fosse unico quindi in pratica quello che abbiamo in bms è un gruppo di generatori fra cui il main generator lo standby generator e l'epu generator quindi sono tre in totale questi sono collegati all'uscita del motore e alla riserva di idrazina questi sono i modelli di alimentazione dei vari bass elettrici che daranno poi alimentazione alla batteria bass di emergenza bass essenziali e non essenziali il generatore principale o main generator è colui che fornisce l'alimentazione ai bass non essenziali essenziali e di emergenza il generatore di riserva standby generator fornisce l'alimentazione ai bass essenziali e di emergenza ed è in linea ogni volta che l'alimentazione principale non fornisce alimentazione e fin tanto che l'interruttore main power è in posizione main power come in questo caso specifico il generatore di emergenza epugenne è in linea quando sia il generatore principale che quello di riserva forniscono energia ai bass di emergenza fatta questa doverosa premessa che ci permetterà di meglio comprendere il pannello elec passiamo alla descrizione dello stesso per fare questo ci aiutiamo con un piccolo tocchetto per evidenziare anche tutte le segnalazioni che sono all'interno del pannello e in questo caso andiamo nel pannello test attiviamo il test luci e tutte le segnalazioni diminuiamo il volume al minimo cosicché da avere sempre segnalazioni attive per poterle definire senza però essere disturbati diciamo dalla voce quindi ci arriviamo partiamo con l'interruttore di alimentazione principale che è quello che vedete qui è un interruttore a tre posizioni su off nessun sistema elettrico viene alimentato dal generatore principale generatore standby o batteria tutti i sistemi sono detti freddi cold su bat la batteria dell'aeromobile è collegata e la linea della batteria battery bus è alimentata su posizione main il generatore principale e il generatore standby forniscono energia ai sistemi di bordo passiamo al pulsante caution reset che è questo è l'unico modo per resettare un guasto elettrico guasto che viene visualizzato come luce di cautela tramite la spia ambra elec sis sul pannello andiamo a vedere ecco qui sul pannello di cautela la segnalazione elec sis ok ritorniamo sul nostro pannello ripristina anche il generatore principale e standby passiamo alla spia flcs pmg o fly control system e permanent magnet generator si accende quando nessuno dei rami flcs stanno ricevendo alimentazione dallo stesso flcs pmg in pratica questo significa che la fonte di energia primaria per il fly control system non è riuscita abbiamo poi l'indicazione main generator si accesa significa che il generatore principale non è collegato ai bus a corrente alternata non essenziali con molta probabilità il collegamento con il generatore principale non è riuscito passiamo allo standby gen quando la spia standby gen si accende significa che l'alimentazione del generatore standby non è disponibile quando la spia epigen che vediamo qui si accende significa che l'epu cioè l'emergency power unit è stato comandato ad accendersi ma non sta fornendo energia ai basti emergenza siete consapevoli del fatto che la luce non funziona con l'epu su off e la turbina accesa abbiamo poi la spia epupmg si accende significa che l'epu è stato comandato ad accendersi ma non è in grado di fornire energia ai rami del fly control system normalmente attraverso l'epu pmg abbiamo poi sotto due indicatori inferiori che si riferiscono alla batteria dell'aeromobile quando la luce t o f l c s si accende significa che l'alimentazione della batteria è presente su uno o più rami del fly control system in sostanza la batteria alimenta il file control system quando la spia f l c s r l y si accende significa che uno o più rami del file control system non ottengono una tensione adeguata dalla batteria quando la spia fail si accende in volo significa la batteria del velivolo ha una tensione uguale o minore ai 20 volt mentre quando è a terra non è riuscita o non riesce a caricarsi o abbiamo terminato il pannello e lec sganciamoci dalla visuale blocca ritorniamo in visuale stemmaia sganciamo anche il test ecco fatto ottimo a questo punto non ci resta che dirci che terminiamo qui il decimo appuntamento ci salutiamo vi chiedo di iscrivervi al nostro canale di passare dai nostri social se siete interessati ad approfondire con noi prossimamente troverete il tutorial del pannello epu o emergency power unit arrivederci e alla prossima